non so ne vado ah no ma tu quando arrivi non hai da urla dietro ma buongiorno ma buongiorno a questo cazzo ma urla gente ma non sei contento? ma guarda come rire guarda come rire guarda come rire guarda come rire quanto è soltanto ma vi la metto a piegne tanto tanto quanto tanto tanto quanto quanto questo cazzo tanto cosa ha detto in giallo? oh oh f*** che stai a fare? la matriciana matriciana e poi stocca la leveti stocca la leveti che fai poi? ah che seppia c'è questo cane qua che è tutto infiocchettato perché sta aspettando la ragazza vero rock? la sua prima ragazza verrà una cagnolina vero rock? mi raccomando per bene eh devi fare per bene capito? verrà un consiglio vieni qua vieni qua ma andiamo vieni qua dai un consiglio dai un consiglio dai un consiglio dai un consiglio si ti arrocchi questo non te la tenta che piazza per tutto sciacca di tuoi un po' no adesso va con la va con la ragazza dai un consiglio vieni dai un consiglio dai un consiglio dai un consiglio no? si ho tromba dai dai un consiglio E da questa cosa? Dai un consiglio che gli diresti la prima volta che... C'è una tromba! Come la fa? 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 E' la prima volta? Aiutelo la! Ma vaffanculo, mannaggia! Mi vuoi cazzare! Niente, manco un consiglio dai cane! Quando la vedi vai là bello deciso eh? Bello bello deciso, vai lì, gli fai prima un po' di carezzini e poi... Da 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 Capito? Mi raccomando Rocca eh? Oh! Tromba eh! Fa come nonno! Mi raccomando! Eh! Fa come nonno Paustino, tromba! Magna i cicci! Che i cicci può trombare! Vedi quanto è teso! Vedi quanto è teso! Che io vorresti dire... Dai dentro eh! Eh vedi come ti ascolta un po' Oh bello! Chiamelo! Oh Rocca! Dai dentro eh! E capito? come nonno che non mangia i cicci a mangiare trova una bella sorca che quando la vede dopo arriva e salisce eh? come da fa? come da fa? come da fa che vera che sarà lui? come da fa? ah cominciamo ora come da fa o no? il cane il vede un po' insicuro e beh farà lui vai a fare la sega allora ah ma me sta rompico i coglione sto cavalloio davvero non posso ti manca una parola oh vattenee il cane un po' ma dai questo cane e sta aspetta la pederese ma dai ma il cane la figa la fegisse io mi chiede la piantella e adesso vado a me pellette si ma il cane ma naga ma c***o 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 ma 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 c***o dai c***o ma c***o eh dì un po' come gliela di eh beh eh uno ha il cane è la prima volta si emoziona no il cane c***o è incredibile bisogna andare al bar stanno vedendo questa mi sembra netta 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 la netta la netta la netta netta o no espulsione via fuori ma che don c***o non ti coglio ma anche reazione sull'arbitro oh ma che è tutto sto sta c***o eh o no io veramente sono un po' preoccupato per il cane ma vaffanculo tu la smettila con questo cane ma secondo te che si mannaggia la c***o ma comenta proprio a temmiare eh 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 ho capito ma ma vaffanculo va ma che il cane è la prima volta non c'è il diavolo c***o è tutto il diavolo è la prima volta per il cane sono un po' preoccupato no? tu non sei preoccupato? eh ma pensa di ci ha scopato quattro che il cane sto sotto lì sto sotto lì ah ho capito ma il cane è anche il tuo mannaggia la c***o no 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 le minacce no le minacce no le minacce no 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 eh eh eccolo 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 si stanno conoscendo lui ha detto buongiorno eh guarda guarda attenzione lui annusa le scolinsola guardatelo gli sta dicendo mi piaci lei è uguale è quasi pronto nonno eh non la fai eh vieni a vedere ma non la fai eh vieni a vedere che è pronto il cane c***o no dico via 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 ma stanno ma stanno guardate donna maria dice che sono interessati eh sono interessati si eh si l'han detto sotto no 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 sono pronti secondo me è a breve ci fanno vedere qualcosa lascia ne so no vede il cane non ci può vedere che scopono gli altri eh perché no perché non ci può guardare non sono guardone io poi io scopo io non gli altri no è scopone eh è scopone no si sentono osservati nonno che qui non ci va nessuno si sentono osservati no oh no nonno nonno ah ah questo nonno non sbatti i piatti che ti stanno accoppiare è meglio oh vieni a vedere vieni a vedere no ah ah ho capito ma sì sì ma tu c'è anche anni che non ne capi che non va perché sì e si dico a quest'ora già ne ho fatto tre io sì non una ma vieni a vedere ma non da vedere niente può essere che se tu gli dai coraggio no ecco 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 uno vieni a vedere ma io non ci può vedere che scopone ma non mi scopone vai a vedere ma non la vedete ma va a vedere sta sonno a fare il tuppino mi mai qui va a vedere te fàающie veee ti fanno qualsiasi che fanno vedrai come guarda però come è? la vede che ne c'è sta? si è in calore si vieni a vedere vieni a vedere questa voglia di farmi una corona ma non vuole vado via vado via vado via io li tengo aggiornati ma mi salite qui niente da fare ma perchè lui la vuole portare a cena vogliono andare a cena fuori ecco lì secondo me lui vuole fare il galancane si vuole fare il cazzo che lì non c'è sta quando lui va dietro lì si gira ma secondo me lui vuole fare il signore la vuole portare a cena no? gli vuole offrire un po' di crocchette al Kobe anche una bottiglia di champagne capito? e il vino qua qui hai capito come vuole fare il cane? e il vino qua le piedi qui? ma il cane ma vaffanculo e il vino qua le piedi ma ti viene da ridere però e rido perchè sei s***** come una parolina da te se l'aspetta? ce n'è uno di finocchi e lo so ma non c'è parte o no? una parolina da rock c'ho fanni dietro di io per cosina o no? gli puoi di qualcosa? fattene pa*** ma dimmi la sincera verità a chi è inoltre? ma tu che ne pensi? ma io non la penso niente magari vai sotto gli fai una carezione di Ciroc dai si fallo per noi dai andiamo giù dai fermate fermate poi andrei la da rock e beh faccio no? ma fa parte della nostra famiglia ma non fa parte niente si nel mio andiamo giù dai fermate andiamo giù? si andiamo su oh arriendo la roba che cazzo manco che sto sto dicendo qui comunque gli sto no gli sto a dire che comunque rock fa parte della nostra famiglia almeno ma di che? ma di che? una parola di coraggio Dio non può nonna marito Dio non ti date da fare eh? dai ma di che crepe quando ti pare sei spiritoso dai oggi pare che c'è il funerale davvero vai là ma da stamattina quando è arrivato ma fa due parole qui in cora di storia ma aiutiamo il cane ma vaffanculo tu quei cani e i padroni del cane no ma dai una parolina una parolina una parolina una parolina una parolina la potresti avevo la pioggia che ti scappa no le minacce no 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 eccolo ci siamo quasi eh rombamo? eh? dai la rock secondo me ci siamo raga una macchina a nonno perché non lo vuole sapere o no? secondo me eh c'è più poco si meno male Luca sei contento di avere tutti i nipotini canini io non c'ho nessuno che io ne voglio e la p***a che ne voglio io io ne voglio i cani a me mi servono ma vieni a vedere un attimo ma io non lo davo di niente perché io manco li voglio vedere vieni a vedere ah ma poi c'è anche la corona allora vieni a vedere ma quella che vieni a vedere ma io che avrò fatto di male ma che c***o l'ho fatto a me c'è il nipot così scemo ma cavolo vieni a vedere ma che c***o vieni a vedere vieni a vedere vieni a vedere vieni a vedere ma che c***o guardate là che sta succesivamente ma che c***o e che c***o mi fei c***o ma vieni a dire che c***o che c***o mi fei c***o lui è una buona eccoci vai vai tra la panu oh no, oh no, lui è andato sopra, gli è andato sopra, mannaggia il c***o, c'è il c***o di coglioni, ma viene a vedere, va via, scappo, viene a vedere, lui è montato sopra lui, mannaggia il c***o, andiamo a vedere, lo posso mettere così? parla piano che stanno per fare, parla piano, parla piano, parla piano, oh, dite qualcosa da questo che me ne vuoi, ah, questo me lo faccio, guarda, 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 guard non li trova al buco ma tu mi hai detto che hai fatto un figlio scemo che questa mattina mi stai rompendo io ma lui non lo trova al buco e la finisci più e beh va che l'ha imboccato l'hanno fatto va a vedere corri va a vedere o no la lascelo via va a vedere non è pericolosa stavolta mamma mia sei diventato bisnonno sei bisnonno non sei contento auguri 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 sei diventato ma non sei contento eh io mi fa tutto il discorso e l'ha messo in atto lui eh sei contento ma perché non ti sape di coglioni ma di una frase qualcosa no sei contento diventa bisnonno attenzione sembrava una giornata serena ma sta nevicando incredibile sta nevicando riaprono tutte le impianti scistici canazzei curmaier corvara ortisei altapadia e direi vede di coglioni mannaggia arzughe o no arzughe che hai messo su una casa d'appuntamento per cani e adesso diventa anche bisnonno auguri auguri scrocchè ciao comprati a raffao e ricordati qui è una casa d'appuntamento per quelli che hanno il pitty green non come quelli come te che sei una canaglia da qua sei nato toh montati qui e va a parigi ma volevo dite al cane gli avete dato il diagra che piate voi per il cincilla che è morto e lo stesso prodotto che andate in farmacia a comprare allora va bene si va bene per voi va bene anche per cane state bene e salutatemi a parigi ciao e viatela io non mi serve che io non l'ho mai preso non so manco mai fatto i magni cechi e le pavie hai capito le donne anche tra i tori tu che andava in farmacia a comprare guarda che ti sei fatto come un figlio piccolo tu sei sette anni sette anni ma chi è arrivato capisci in cazzo buona sta matriciana di che sa di che sa di che sa di sugo a razzu che è stato bravo ma io che cazzo non è bravo che mi frega da qua se ti fai nipotini ma che va a fare un culo non è sempre in l'anno contento del cane? no con questo cane sei contento o no? si si sono contento basta quanto sei contento? basta sono contento guarda fa una faccia contenta ma non è già dove è? dove va a pisciare? a pisciare oh vedi che sei contento del cane? sono contento sono contento ma da me quanto sei contento? bene quanto sei contento? ma non è già che vuoi smagli a pisciare? chi è contento rock? chi è contento rock? chi è contento? attenzione eccolo il pasto cracker con caffè d'orzo e pane duro mamma no no di niente cracker lo trovate ah beh ma che cazzo fai? ma che cazzo fai? la barco farm pubblicizza il farm come se non creassi di tendenza ma che cazzo fai? 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 è lui? ma che cazzo fai? non cazzo fai? Grazie.